L'esonero di Allegri da parte della Juventus è solo un primo elemento di un percorso più lungo e più ampio che potrebbe portare molto brevemente a conoscere tanti dettagli, tanti retroscena di una vicenda piuttosto lunga. La Juventus ha esonerato immediatamente, ha esonerato seduta stante quindi senza rinviare poi la separazione a fine stagione Massimiliano Allegri sollevandolo dall'incarico di allenatore della prima squadra maschile ma immediatamente sono state avviate le procedure per una separazione più brusca, più profonda, più radicale e soprattutto molto più economica per il club bianconero. La via del licenziamento e infatti sono state presentate delle contestazioni ad Allegri per quello che è emerso fino a questo momento dal punto di vista giornalistico le contestazioni sarebbero 5 e si fa riferimento al durante e al dopo Atalanta-Juventus 0-1 finale di Coppa Italia quindi l'espulsione ma soprattutto il comportamento nei confronti del direttore di Tutto Sport nei confronti della strumentazione fotografica di La Press e poi anche altre esuberanze che sono state ritenute inaccettabili, intollerabili fino ad una lite con Cristiano Giuntoli non solo quella in campo quando lo ha scacciato via ma anche fino a risalire sul pullman verso l'albergo di Roma una lite in presenza di testimoni che sarebbe stata addirittura molto furiosa e in questo senso Allegri secondo la Juventus avrebbe violato il codice etico anche della giustizia sportiva ma soprattutto quello interno. Queste sono le ricostruzioni sulle 5 contestazioni mosse dalla Juventus ad Allegri che ovviamente adesso tramite i suoi legali può anche fare la contestazione della contestazione cioè precisare, smentire e dire in realtà che non è così, che qualcosa della ricostruzione della Juventus non è corretto e in questo senso si va allo scontro, ad uno scontro legale che in queste prime battute potrebbe essere anche abbastanza rapido ma poi potrebbe prendere una strada piuttosto lunga la destinazione sarebbe quella della separazione praticamente a costo zero l'esonero che intanto resta sempre salvo e che non può mai essere contestato e aggredito è bene chiarire questa cosa, potrebbe trasformarsi invece in un licenziamento per giusta causa senza dovere quindi ad Allegri neppure un euro e sicuramente nulla della prossima annualità di contratto quella fino al 30 giugno 2025 l'ultima disponibile. Nel mezzo ci sono le vie di una transazione quindi una riduzione rispetto a quello che la Juventus dovrebbe dare ad Allegri e ricordiamo che la riduzione non è parametrata soltanto sui 7 milioni netti che spetterebbero ad Allegri quella sarebbe la riduzione dal punto di vista di Allegri, dalla sua prospettiva cioè invece di prendere 7 milioni ne prenderebbe di meno se accettasse una transazione se ci fosse mentre per la Juventus il risparmio sarebbe molto maggiore perché bisogna considerare l'importo lordo e quindi bisogna considerare che Allegri in realtà costa circa 13 milioni lordi alla Juventus per il prossimo anno ma è assolutamente impensabile quello che viene riportato da qualcuno cioè che Allegri potrebbe chiedere appunto l'ultima annualità più un risarcimento del danno risarcimento del danno per che cosa? Allegri è stato esonerato e da quello non si torna indietro non è stato licenziato per giusta causa che magari può essere infondata in quel caso licenziato per giusta causa senza esonero e dimostrando che la giusta causa non c'è Allegri effettivamente potrebbe chiedere di essere ripristinato sostanzialmente nel contratto e anche un risarcimento ma come fa a chiedere un risarcimento su un esonero? l'esonero è sempre pieno diritto della società è previsto assolutamente e non è contestabile non è opinabile non è oggetto non può essere oggetto di un confronto di un dialogo è una decisione che viene presa in maniera potestativa dalla società e quindi resta tale e questo è solo l'inizio ma non solo della vicenda più strettamente legale che comunque già è abbastanza grave e importante di per sé perché stiamo parlando di Allegri e di quello che è stato per la Juventus o di quello che si è voluto che fosse per la Juventus cioè quasi più importante della Juventus e adesso siamo praticamente nella damnazio memorie non è stato salutato con post sui social non è stato ringraziato dalla Juventus si intende non gli è stato consentito per ovvi motivi di presentarsi con la Coppa Italia all'Allianz Stadium per fare un giro di campo per festeggiare con i tifosi per salutare i tifosi e per ovvi motivi perché appunto c'è un'avvertenza legale in corso ma questa vicenda appunto che si trascinerà e che è molto significativa di come male sono andati a finire le cose potrebbe soltanto essere anche l'occasione per far venire fuori ben altro e cioè altri comportamenti di cui già si inizia a chiacchierare che sarebbero stati tutt'altro che aziendalisti da parte di Massimiliano Allegri nei confronti della Juventus comportamenti legati alla gestione dei calciatori ai rapporti con la dirigenza al calciomercato e qualcosa stiamo già iniziando ad intuire perché i soliti sostenitori di Allegri nelle varie redazioni stanno parlando in sua difesa soprattutto nelle trasmissioni televisive è bene, anzi è fondamentale ignorare questi personaggi perché li abbiamo ascoltati fin troppo ignorare quello che dicono o al massimo registrarlo come strumento per capire quali sono le posizioni politiche e quindi quali sono le rivendicazioni di Allegri per bocca di questi personaggi dopodiché vanno assolutamente ignorati quello che sarebbe interessante finalmente è capire quali sono stati i comportamenti di Allegri e soprattutto quanto erano conosciuti e conoscibili da parte appunto di giornalisti che hanno preteso di raccontare alla tifoseria e al pubblico la Juventus da vicino omettendo invece con omertà e opportunismo una serie di dettagli particolari che avrebbero descritto Allegri come figura molto più veritiera rispetto a quello che ci è stato raccontato rispetto all'immagine dorata di un condottiero di un aziendalista di uno innamorato della Juventus e tra i comportamenti che potrebbero emergere eventuali anche eliti o comunque dissapori o delle distanze anche dei divieti opposti da Allegri per esempio aggiuntoli di determinate partecipazioni e collaborazioni in ambito sportivo nell'ambito dell'organizzazione degli allenamenti per esempio ci sono anche dei comportamenti che definiremmo anti-Juventini la favoletta dell'allenatore uomo vero innamorato della Juventus e profondamente aziendalista sta per frantumarsi sotto le picconate della verità e questo pur in una piena d'amnazio memorie è un passaggio fondamentale anzi è proprio la base della d'amnazio memorie sapere come sono andate veramente determinate cose conoscere determinati retroscena che sono stati occultati finora può essere la chiave per la tifoseria della Juventus per comprendere profondamente la dimensione della propria libertà della propria liberazione e del futuro che deve continuare ad essere di una Juventus libera e liberata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti